Quando il regalo di Natale fa rima con l'usato e il second hand, è stata una giornata di grande affluenza, quella di domenica 18 dicembre, al mercatino delle Pulci nell'edizione straordinaria di Natale, ospitata nel borgo di Monte San Zavino in Valdichiana. Nonostante il rinvio a causa del maltempo, questa edizione era fissata in una due giorni, il 10 e l'11 dicembre, i banchi oltre 100 hanno affollato le strade e le piazze del borgo. C'è chi per l'occasione si è persino vestito da orso per incentivare le vendite, soprattutto attirando i più piccoli, e chi ha portato tra i banchi oggetti davvero originali, come il prete, il vecchio scaldaletto delle nonne. Ma ce n'era davvero per tutti i gusti, dal vintage all'usato, dalla curiosità all'oggetto raro. Insomma, c'era solo di che sbizzarrirsi per fare un regalo di Natale o per farsi un regalo, e che in certi casi era anche solidale. Presenti, infatti, anche i banchi delle associazioni di volontariato del territorio e dell'immancabile Calcit. Insomma, una ricetta, quella del mercatino delle pulci, che ormai si rivela sempre vincente. A Natale, forse, con un pizzico di magia in più, a cui non resistono nemmeno i VIP, tra i banchi, anche quello dell'attore Uberto Kovacevic.